Rete sbagliata, rete subita, la segna Rosafio lanciato in contropiede da Zunno, si accentra e calcia col mancino, deviazione che mette fuori causa forte, non segnava dal 27 gennaio contro la Turris, si sblocca Rosafio e dopo tre minuti il Messina raddoppia, altro contropiede partito da Zunno, Rosafio alza la testa, plescia, stop di petto e sinistro meraviglioso! Una prudezza del numero 28 che non trovava la via del gol dal 14 febbraio contro il Sorrento, più due per la squadra di Modica, un gioiello di plescia!